Perché il BES? Qual è l'importanza di questo rapporto? Come mai si è deciso di avviare questa ricerca? C'era bisogno di concentrare l'attenzione e le misure non più soltanto sul PIL ma anche sulla qualità della vita delle persone e per questo abbiamo scelto questo percorso di costruire indicatori sul benessere eco e sostenibile per poter analizzare ad ampio spettro in un approccio multidimensionale se veramente la vita della gente migliora oppure no e non soltanto per misurarlo in media, non soltanto per misurarlo per il complesso della popolazione ma anche per capire se le disuguaglianze che nel nostro paese sono amplie sia sul piano generazionale che di genere, che territoriale e sociale si riducono oppure no non è un caso, l'abbiamo chiamato BES, benessere eco e sostenibile eco perché vogliamo sapere non solo se il benessere migliora oggi ma migliora nel senso che riduce le disuguaglianze tra chi stava peggio e chi stava meglio e sostenibile perché vogliamo valutare non solo se miglioriamo oggi e come siamo oggi ma se stiamo intaccando quel capitale naturale, umano, sociale e anche economico in modo tale da compromettere che poi le generazioni del futuro possano fruirne di questo benessere come ne fruiamo noi Qual è un aspetto magari particolare, curioso e inaspettato del ritratto del paese di oggi che è emerso? Diciamo che non c'è un aspetto inaspettato perché il benessere affronta veramente ad ampio spetto la vita della gente quello però che possiamo dire è che emerge ovviamente in questo momento una situazione particolarmente critica sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico e anche da un punto di vista istituzionale con forte distacco tra cittadini e istituzioni le istituzioni hanno bisogno di ricostruire un rapporto con i cittadini come mai è successo nella nostra storia però quello che va anche sottolineato è che emergono delle grandi ricchezze e delle grandi potenzialità di questo paese su cui dovremmo investire e su cui la politica ovviamente dovrebbe interrogarsi basta pensare alle nostre bellezze naturali, paesaggistiche, culturali assolutamente non sfruttate fino adesso, non adeguatamente valorizzate anche da un punto di vista economico basta pensare anche a tutte le nostre potenzialità e ai traguardi che abbiamo raggiunto nel mondo della salute dove certo dobbiamo migliorare nella riduzione delle disuguaglianze ma abbiamo una speranza di vita che è elevatissima tra le più alte al mondo quindi insomma diciamo anche messaggi molto duri rispetto a una situazione che sappiamo essere critica dove anche la soddisfazione dei cittadini diminuisce rispetto al passato proprio per la criticità ma anche messaggi di speranza perché poi ci sono molte persone che anche oggi stanno male che hanno fiducia nel futuro